Questo video riguarda i migliori 3 smartwatch. Il vincitore della qualità è l'Amazfit BPU Pro. Questo Amazfit BPU Pro è dotato di un sensore di tracciamento ottico biologico recentemente aggiornato, il Biotracker, che supporta la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue 6. Amazfit BPU Pro ti aiuta a registrare i tuoi dati di allenamento per aiutarti ad allenarti a un livello superiore. Resistente all'acqua fino a 50 metri, puoi indossare il BPU per il nuoto e seguirà i tuoi movimenti e registrerà i tuoi risultati anche sott'acqua. Il BPU Pro mantenere il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Con il suo sensore ottico biologico Biotracker PPG proprietario di UAMI, Amazfit BPU fornisce misurazioni accurate della frequenza cardiaca. Monitora accuratamente le tue fasi del sonno, comprese quelle di sonno profondo, sonno leggero, REM. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Nerusa Smartwatch. Questo smartwatch è dotato di un display a colori TFT da 1,69 pollici per una qualità HD eccezionale. Questo orologio intelligente include funzioni più pratiche, activity tracker, 24 modalità sportive, monitoraggio del sonno, cardiofrequenzimetro per 24H, saturimetro, notifiche di chiamata, SMS e messaggi app, cronometro, previsioni del tempo, promemoria sedentari, sveglia, trova telefono, controllo fotocamera, controllo musica, modalità multilingue include italiano. Orologio Fitness il sensore di movimento integrato ad alte prestazioni monitora e rileva automaticamente la frequenza cardiaca in tempo reale, aiutandoti a regolare in modo ottimale l'intensità dell'allenamento. Il Fitness Tracker Contapassi registra con precisione i dati dell'esercizio fisico e le attività quotidiane, ad esempio passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività, monitoraggio della frequenza cardiaca. IP68 impermeabile può soddisfare completamente il tuo uso quotidiano, come lavarsi le mani, sudare, eccetera. Il vincitore del premio è il Blackview Smartwatch. 2021 nuovo Blackview R3 Smartwatch è dotato di 1.3 Full Touch TFT Screen, ti fa avere un'eccellente qualità dell'immagine, il sistema di lingua italiana, Activity Tracker, 12 modalità di esercizio con registrazione GPS, notifiche intelligenti, frequenza cardiaca 24 ore, saturazione di ossigeno nel sangue. Blackview Smartwatch è dotato del sensore di movimento ad alte prestazioni, che integra la nuova tecnologia di misurazione high-tech per misurare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il sonno per farti capire meglio la tua salute fisica. L'orologio fitness vibrerà leggermente quando riceverai sullo schermo notifiche di chiamate, calendario, SMS e SNS. Blackview Smartwatch è dotato di una batteria da 220 ma con ricarica rapida, con 2-3 ore di ricarica è possibile utilizzarlo per 7-10 giorni e in stand-by 25-30 giorni. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.